Gesù ragiona, invece, secondo la logica di Dio, che è quella della condivisione. Quante volte noi ci voltiamo d'un'altra parte, pur di non vedere i fratelli bisognosi. E questo? Guardare da un'altra parte. E' un modo educato di dire, in guanti bianchi, arrangiatevi da soli. E questo non è di Gesù, questo è egoismo. Così Papa Francesco ha commentato il Vangelo della liturgia di questa domenica, il miracolo della moltiplicazione dei pani dei pesci, prima della preghiera dell'Angelus recitata in piazza San Pietro. Compassione, condivisione ed eucaristia, ha spiegato dalla finestra del Palazzo Apostolico, è il cammino indicato da Gesù, che ci porta ad affrontare con fraternità i bisogni di questo mondo, ma che ci conduce oltre questo mondo. I discepoli, infatti, ragionano secondo il mondo, per cui ciascuno deve pensare a se stesso, mentre Gesù sente compassione per la folla che lo rincorre, perché sa che non lo cercano per curiosità, ma per bisogno. Gesù soffre insieme a noi, con noi e per noi, ha aggiunto Papa Francesco, e ci insegna ad anteporre le necessità dei poveri alle nostre, perché i poveri non hanno il necessario per vivere. E quella della moltiplicazione dei pani dei pesci, ha chiarito il Papa, non è una magia, ma un segno che ci invita ad avere fede in Dio, Padre providente, che non ci fa mai mancare il nostro pane quotidiano, se sappiamo condividerlo come fratelli. Nel benedire i pani da distribuire, infine, Gesù preannuncia l'Eucaristia, nella quale dona il pane della vita eterna, se stesso, offrendosi al Padre per amore nostro.